ok bentornati nella seconda parte di piccari fest 2019 a narni e per chi si fosse perso la prima parte vi consiglio andare a vederla immediatamente altrimenti non ci capite una ceppa e siccome non voglio spammare gli eventi passo direttamente alla seconda parte sì quella parte dove inizia la musica e le pulsazioni aumentano chi scrive testi poi fai conti con me nel frattempo mi sono perso ciò per giocare tutta la crio scusate cerco motociclistica la giacca da pezzata e la barbara da capito va bene non ci resta che godercela e chi la l'ho beccato forse era meglio non trovarlo guarda lì com'è bella no professionisti proprio che cos'è quella cosa morta che ti stai a mangiare guarda lì com'è bella guarda lì com'è bella guarda lì com'è bella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quindi che cazzo fate tutti intorno a questo cazzo di fuoco di merda? A parte riprendere me che cazzo sono schifo Oh, tepidocchi di merda Passa nel fuoco Ci stiamo scalando Bu, si è spento Il telefono ha scelto di spegnersi Sei famoso È fortunatamente per me Però Lei La monta nel suo La monta nel suo Facciamo Questa temena Questa temena La monti Questa temena Guarda che c'ha qua Guarda che c'ha qua Guarda che c'ha qua Io sto depotenziato Io sto depotenziato Io sto depotenziato è una femmina di accanto a te? è un'amica, però mena, occhio, ok, approcciala di nuovo se sei capace come questa femmina? non c'è chi esce fuori, se non è un moraglio, c'è un uomo, però se mi deve fare una corta firme cazzo, te giuro, devi essere attore, teo, sai che io ho tutta una pazienza? io ho tutta una pazienza, lo sai? però a un certo punto mi finisce? facciamo un sondaggio, facciamo un sondaggio, pubblico, pubblico, perché mi faccio due risate domani? no, non pubblico mai cazzo, c'è 64 gigabyte di cazzala di vino, che hanno fatto? basta? vabbè, tocca a me c'è pazienza, va eh, ma a questo punto finisce? eh, sì, eh franca asidica no da me dicono, chi dà più giudizio è d'opera sì, fino a certo punto ok, oggi non c'è mancato nulla, vino, castagne, musica, e adesso? sto approcciando la zona tende in cerca della mia e senti qua la sesta sinfonia di Beethoven inghia sti cazzo di rossonio senti come noncano l'indomani un giorno così non ti fermare continua questo cazzo lo stai su Instagram ok, il video finisce qui ricordatevi di lasciare un bel mi piace commentare e iscrivervi al canale grazie ciao il nostro caro eroe chopper ciao è morto è già in pigiama pronto per riposare perché stasera che fai Massimo? eh, me lo dobbiamo andare al lavoro e niente da chopper e globetrotter è tutto ciao amici di strisciata un ringraziamento speciale un ringraziamento speciale un ringraziamento speciale va anche alla nostra cuoca e alla finta assistente per oggi è tutto ciao alla prossima avventura ciao